e ci siamo qualche minuto per collegarci e partiamo musica 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 Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 E tutti Grazie a 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 tutti E noi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti